Di persone oneste e che ogni giorno chiedono ad altre persone oneste di non restare soli, di non restare abbandonati, ma di farsi forza e partecipare come oggi qui in questa piazza. Vi chiediamo di venire perché vi hanno mangiato le vite, vi hanno mangiato il posto di lavoro e questa è la città dell'emendamento dove con un emendamento al TPT arriva un milione e centomila euro ad Ostia, già sotto controllo delle cooperative di Buzzi e Carminati e con un altro emendamento ne arrivano altre seicentomila euro. Questo è il regalo del centrodestra e sono tutti i soldi che vanno alle mafie e alle 50 sfumature di grigio di questa lobby politica affaristica. Noi siamo un'altra lobby, la lobby delle persone oneste che hanno detto oggi basta, basta, basta uscite da quei palazzi, andate a trovarvi un altro lavoro oppure saremo noi persone oneste a garantirvi un reddito di cittadinanza finalmente per non essere ricattati dalle mafie, finalmente fuori dal ricatto occupazionale. Un italiano su cinque in questo momento prende meno di 780 euro al mese, il reddito di cittadinanza è la scommessa perché abbiamo bisogno di una pausa di riflessione dopo 20 anni di queste lobby politico-affaristiche mafiose in cui riciclano il denaro con le lobby del gioco d'azzardo, in cui riciclano il denaro con queste... con queste di altri cittadini onesti. Oggi sentiremo un Beppe Grillo che è venuto qui a trovarci benissimo, abbiamo capito benissimo che oggi siamo tantissimi e diciamo basta, 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 tassone, tu e tutte le persone che ti hanno coperto, Esposito, Orfini, il PD, andate a casa, andate lontani, andate via con i fasciani, allontanatevi, prendetemi una vacanza adesso noi diciamo basta perché siamo tanti, siamo decisi, veniamo da lontano e andremo ancora più lontano Ostia, grazie, stiamo qui, restiamo uniti, Ostia, per favore ripartiamo da qui, dai cittadini di Ostia, oggi per Roma, per l'Italia e basta con queste lobby delle multinazionali, della sanità, del gioco d'azzardo che adesso vogliono spaccare le ginocchia alla Grecia adesso dobbiamo essere noi cittadini a dire basta e questa è una serata in cui vi chiediamo di venire con noi qui sotto, di scendere dai terrazzi, vi chiediamo di scendere dalle finestre, di aggiungervi a noi solo per oggi, sentite l'atmosfera, parlate con le persone che sono qui dentro, sono persone oneste che hanno detto basta allora noi chiediamo questo, basta con gli affaristi, vogliamo dei cittadini, la trasparenza, basta con i conflitti di interessi basta con il tradimento delle istituzioni da parte di questa casta politica corrotta siamo qui tutti insieme, oggi, domani e per molto tempo, grazie bravo Massimo Baroni, Massimo Baroni lo voglio prefetto di Roma prefetto di Roma, è un mio sogno, è un mio desiderio